Contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche, commerciali e artigianali operanti nel territorio del comune di Perdifumo. L'ente cilentano guidato dal primo cittadino Vincenzo Paolillo ha reso noto l'avviso relativo alla concessione dei contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per gli anni 2020, 2021 e 2022. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione è di 80.385 euro per le tre annualità di cui 34.451 euro per il 2020 e 22.967 euro per le restanti due annualità 2021 e 2022. Il fondo ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è finalizzato a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia da Covid-19. Il contributo a fondo perduto può variare da un minimo di 400 euro a un massimo di 2.500 euro e riguarda i seguenti ambiti di intervento, spese di gestione, spese di ampliamento e innovazione tecnologica, acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie, opere murarie e impiantistiche. Tutte le istanze dovranno per venire entro e non oltre le ore 12 del 25 marzo a mezzo PEC all'indirizzo del Comune protocollo.perdifumo.asmepec.it oppure tramite raccomandata o ancora consegnata a mano presso la sede comunale. Tutte le info più dettagliate e i moduli da compilare si possono scaricare direttamente sull'albo pretorio del Comune. Con tali risorse si dà un po' di respiro a queste piccole attività che rappresentano il cuore vitale dei nostri borghi, sia dal punto di vista economico che sociale, sottolinea il primo cittadino Vincenzo Paolillo, è necessario aiutare le piccole e micro imprese dei nostri territori che altrimenti, complice la pandemia, rischiano di scomparire definitivamente.